Il 18 dicembre del 1966 nasce a Bologna Gianluca Pagliuca, il terzo giocatore con più presenze in Serie A, nonché uno dei portieri più forti della nazionale italiana. Cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città, viene conosciuto dal calcio professionistico per le sue performance con la maglia della Sampdoria, con il quale si aggiudica lo storico scudetto 90-91, tre Coppe Italia, una Supercoppa italiana ed una Coppa delle Coppe. Dopo aver preso parte come terzo portiere ai Mondiali d'Italia 90, fa il suo debutto con la maglia azzurra in occasione della Scania Cup del 1991, dove risulta decisivo nella finale ai calci di rigore contro l'Ulse. Proprio i penalty però saranno i suoi rimpianti maggiori nel proseguo della sua avventura con la nazionale. Prima la finalissima Mondiale del 1994 negli Stati Uniti contro il Brasile e poi ai quarti di finale della Coppa del Mondo del 1998 persi contro i padroni di casa della Francia, in quella che sarà anche la sua ultima delle 39 presenze complessive con i colori azzurri.